era ribadire che quando abbiamo iniziato noi a fare il rap era una cosa da outsider non era una roba da il più figo della classe non era una roba da la persona che emerge ci fa i soldi era proprio una cosa da outsider ma è solo uno statement un raccontare come cosa ci siamo dovuti subire e io in realtà ovviamente sono contento cioè l'altro finale era che il rap rimaneva una roba solo per outsider e che rimanevamo a mangiarci il fegato e le cose non crescevano io sono contentissimo di come è andata però non voglio modificare la realtà o dire che le cose non erano così anzi con maggiore orgoglio voglio dire questa roba che era da outsider da sfigati adesso è sulla bocca di tutti e io sono fierissimo di questa roba però non dimentichiamoci che veniamo da lì quando vediamo le offerte facili quando vediamo le opportunità easy il fatto di farsi in un anno una fan base enorme perché fa il pezzo dell'estate poi succede che non hai una solida discografia dietro questo è il primo messaggio il secondo messaggio che vuole dare è proprio ai cioè ed è assurdo perché la musica si fa per il pubblico ma questo messaggio nascosto che ho messo nel disco io l'ho messo soprattutto anche per i musicisti cioè far vedere che se qualcun altro al coraggio di fottersene proprio di quello che va o non va ok magari non venderai le copie del disco più venduto dell'anno però hai messo nuova energia hai messo nuova ispirazione all'interno del gioco è influenzato qualcuno hai hai messo qualcosa di nuovo sul tavolo è giusto che il pubblico se vuole valutare la musica attraverso i numeri e giustificare quello che gli piace o che non gli piace attraverso i numeri lo faccia perché evidentemente non abbastanza carattere o personalità per poter decidere da solo che musica ascolta ma se c'è qualcuno che non dovrebbe guardare i numeri della musica sono i musicisti perché poi rischi di ripeterti e di voler sempre rifare il tuo pezzo più strimmato se invece se ne fottessero e facessero quello che gli pare sono sicuro che ci sarebbe molto più ricircolo di idee e che con più pazienza e con più sacrifici magari vedere per due tre anni che una roba non va non ingrana però poi ingrana e tu sei stato il primo a farla invece di essere sempre quello che si accoda agli altri capito il punk era la cosa contro le regole alla gente piaceva perché era contro le regole e perché ha smolecolato le regole precedenti io vedo un po la treppa allo stesso modo quindi io sono super cioè comprensivo nei confronti di chi viene tipo affascinato da quel mondo che ha smolecolato tutte le regole che erano quelle del rap fatto in precedenza e ha comunque portato cose nuove che poi hanno contaminato il rap stesso rendendolo migliore aggiornato e più fresco quindi posso capire benissimo eh l'intento ehm io però capisco anche che se il tuo la tua regola è non avere regole o distruggere le regole di conseguenza naturale il sentimento d'appartinenza va un po' a svanire capito mentre il rap era molto una cosa quasi a livello religioso a volte quasi a livello integralista e quindi da dannoso eh cioè nel senso ogni estremo comunque ogni estremo alla fine comunque diventa improduttivo capito per questo non mi va che si penda né da una parte né troppo dall'altra su questo fronte eh però ecco ognuno sceglie la sua filosofia cioè a me non so come dire a me piaceva il rap perché eh faceva educazione e intrattenimento ma mi piaceva di più la parte sociale dell'educazione il fatto di dire questa roba a noi fa schifo a noi non va bene capito cioè queste cose a me era questo che mi prendeva del rap ma se a qualcuno prende di più l'intrattenimento shakey ass having fun e robe del genere è liberissimo di farlo per quanto mi siano già arrivate proposte di collaborazioni eh internazionali eh quando cioè è giusto perché in america la musica è business quindi è giusto che ognuno abbia il eh i soldi per quello che viene pagato però ho capito quando vedo quando sembra una roba di milking proprio e a che al rapper americano non interessa neanche la musica che faccio o quello che scrivo o quello che esprimo non mi va nel senso che proprio mi rimarrebbe un ricordo negativo del fatto che quella persona non stima la mia musica ma ha fatto un pezzo con me perché gli andava bene prendere due soldi cioè non riuscirei a guardarmi allo specchio felice capito di questa cosa quindi Roma non si costruisce in un giorno purtroppo è da anni che rinvio ma se Dio vuole a settembre ce la facciamo andremo in America per un po' non vorrei avere la presunzione di pensare come un ragazzo di oggi cresce però penso che oggi eh che viene a contatto con il telefono tipo a undici dodici anni e vedi come parla la gente degli artisti ma della musica stessa eh perché comunque c'è molto e cioè se un disco è esposto non conta chi sei c'è sempre un po' di hating no nei confronti di quel disco io penso che una roba che impressioni tanto un ragazzo di oggi se provo a mettermi nei suoi panni è che su internet vede spesso parlare male di qualsiasi persona poi viene un concerto e vede tutti presi bene tutti che parlano di esperienze di altri concerti che hanno passato delle nottate che hanno passato insieme perché magari hanno dovuto dormire in stazione perché non c'era l'hotel eh dell'artista che hanno visto quella volta del live a cui sono andati degli artista che non gli piaceva e poi gli è piaciuto capito eh quindi almeno secondo oggi mi impressionerebbe molto vedere la differenza tra la realtà e quello che dicono le persone su internet per esempio perché penso che cioè eh è così per un artista capito cioè dici minchia sta canzone la odiavano tutti e adesso la cantano tutti com'è sta roba quindi figurati nei confronti di uno che sta sotto il palco che vede questa realtà da fuori e quindi sono lieto che ci siano questi eventi perché riunendo generazioni così e unendo i racconti ricordi non è che devono essere predico in posizioni è semplicemente ti racconto la mia esperienza e sono sicuro che chi ha un buon cuore chi chi ama la musica riuscirà sicuramente a immedesimarsi nelle mie parole perché da persona che ama la musica ho fatto anch'io tutti i sacrifici che hanno fatto i ragazzini non avere i soldi usare gli unici soldi per il concerto prendere il biglietto di treni improponibili che ci mettevano una cifra scrivere le strofe sul treno andare ai contest di freestyle con le birre dentro lo zaino perché non avevi i soldi per prenderti la birra cioè lo so che è una cosa quasi banale ma penso che la musica come messaggio principale di qualunque tipo abbia la libertà come concetto che che vuol dire fai quello che ti pare se cioè e secondo me oggi la libertà più grande è riuscire a non farsi influenzare dal giudizio degli altri perché il giudizio già il giudizio degli altri comunque faceva male all'essere umano oggi che è sovra alimentato il giudizio fa ancora peggio quindi io auguro ai ragazzi di oggi la capacità di non farsi influenzare di fare sempre quello che vogliono anche se va contro alle logiche di mercato anche se va contro a cioè un artista cioè basta questo falso mito che l'artista deve fare tutto giusto perché ha successo un artista se non sbaglia non cresce mai vabbè la radio indipendente penso che sia lo strumento più figo tra i più figli che c'è anche perché comunque per le persone è una cosa che sottovalutiamo sempre però la radio ti può accompagnare nella tua giornata e non è invasivo non è come guardare un video guardare il telefono che ti devi fermare da tutto il resto tu puoi essere produttivo mentre ascolti e quindi secondo me secondo me la radio potrebbe avere un'ascesa più avanti nel futuro perché ha per questa valenza